C'è stato un incremento a livello nazionale, e facendo un focus su Arezzo e provincia, nei prossimi giorni, nel prossimo mese arriveranno otto unità e a scorrere 71 unità in tutta la provincia d'Arezzo nei prossimi mesi. Quindi questa è una delle promesse mantenute, non ci fermiamo, è un primo step, ma il ministro Salvini ha voluto dare un segno tangibile di quello che il governo sta portando avanti e la sicurezza è una delle nostre priorità, per cui io sono veramente felice di questo risultato perché la provincia d'Arezzo ne aveva bisogno e anche perché i cittadini ce lo chiedono.